Buongiorno a tutti, sono Alessandra Barzaghi, sono il direttore marketing lenti wholesale per Essilor Luxottica in Italia e benvenuti a Mido nello stand di Essilor Luxottica. Per noi è importantissimo essere qui oggi, se vogliamo è una premiere, perché è la prima volta che Essilor Luxottica si presenta in un evento ufficiale, pubblico, come One Company, come azienda unica e integrata, quindi è un momento davvero importante e siamo felici di averlo fatto a Mido, che è indubbiamente la fiera dell'ottica più interessante nel panorama internazionale. Come vedete lo stand è enorme e vuole portare il racconto, quella che è la visione di Essilor Luxottica del nostro mercato, con uno statement molto importante, siamo nel padiglione lenti, siamo in affaccio alla piazza Lenti e arriviamo con questa idea di Vision Care Company, quindi un'azienda terribilmente attenta a tutto quello che è il mondo della visione. Ovviamente ci sono delle novità qui a Mido, novità anche nel modo di raccontare la nostra offerta, abbiamo deciso di abbracciare un racconto nuovo, la tradizionale divisione tra montatura, lenti, strumenti, qui l'abbiamo reinterpretata arrivando con dei concetti che raffigurano un po' quella che è la situazione reale, i nostri consumatori finali indossano un occhiale, che quindi è fatto di tutto, è fatto di una montatura, è fatto di una lente ed è stato realizzato attraverso le migliori strumentazioni ottiche. Abbiamo qui nel cuore del nostro stand quello che è anche il cuore del nostro DNA di azienda, l'innovazione, l'innovazione tecnologica. Oggi in anteprima mondiale a Mido abbiamo svelato la nostra nuova gamma di lenti progressive, Varilux XR Series, una famiglia di lenti estremamente innovativa e in preview arriverà poi in Italia sul mercato italiano a maggio. Vi basti sapere che sono lenti progettate con intelligenza artificiale e saranno quindi in grado di previre il movimento dell'occhio dietro alla lente. Non posso svelare di più, dovete stare sintonizzati. Un'altra grande area di focus per noi molto importante l'abbiamo nel nostro racconto che si chiama Committee to Vision dove vogliamo raccontare la nostra visione sul futuro di una categoria importante per il mondo dell'ottica che è la categoria del bambino. Parliamo quindi di montature studiate appositamente per i bambi ma anche di lenti. Presentiamo qui la nostra lente Stellest che è una lente ma è anche un protocollo che aiuta i nostri clienti gli ottici partner in collaborazione ovviamente con gli oculisti a controllare la progressione della miopia dei bambini. Il contesto miopico è preoccupante, tutti abbiamo sott'occhio i dati e quindi è molto importante che l'industria sia attiva in questa direzione. L'ultima novità o l'ultima, ma è veramente, non è l'ultima, ce ne sono tante, l'ultima per questo momento di scambio ci piace molto, l'abbiamo chiamata Celebrating Beauty and Humanity e raccoglie dei nostri brand iconici, due brand di montature Ray-Ban e Oakley che tutti conoscono e il brand Transitions. Sono dal nostro punto di vista, nel nostro portafoglio sono i brand che maggiormente consacrano l'occhiale come un vero elemento di bellezza ed è molto interessante vedere come anche un brand di lenti, Transitions, possa fare da ponte sia l'anello naturale di congiunzione con il mondo della montatura. La presenza di Essilor Luxottica Amido ha voluto proprio portare il racconto di quelle che sono le nostre aree di eccellenza, le nostre punte di diamante se vogliamo. Ovviamente il portafoglio di offerta per i nostri centri ottici partner è ampissimo, Essilor Luxottica vuole proprio diventare il partner che affiancherà i centri ottici, che affianca oggi e che continuerà ad affiancare i centri ottici italiani a supporto del loro business nella totalità, nella rotondità del loro business. Quindi veramente un alleato per avere successo, avere una buona performance nella nostra industria.